Allora, edizione delle 12 e 30 davvero ricchissima, infatti non sono da sola, mi hanno raggiunto Fabio Caressa, Mirko Valdifiori e Nido Manzi, ben ritrovati. Buongiorno, buongiorno a tutti. Ciao Fabio. Allora, per parlare di una bellissima iniziativa che tra l'altro avrà anche degli sviluppi futuri, prima vediamo di cosa si tratta in questa breve presentazione. E gli amici sono quella persona che tu vuoi fare di tutto, e loro non stanno lì a dirti ma che fai perché lo stanno facendo con te. C'è la differenza tra le amicizie, quelle vere, e invece le amicizie passaggiali. Sono avversario, non sono nemici. Il mio fratello è il primo ne dico perché è interista. Da lì ho imparato che non posso fidarmi di tutte le persone. Il mio padre faceva l'accompagnatore della moglie degli giocatori del Napoli, i tempi di Maradona. Lavoro, supermercato per la zia, spesso allo stadio. C'è quella magia di Napoli che non riesce a spiegare se non la vive. Scendiamo, scendiamo, il Napoli ha vinto, andiamo a festeggiare. È d'obbligo andare a vedere le partite del Napoli. È comunque un gioco, però il Napoli è il Napoli. Cantano alla fine delle partite. Vengono un grande apure. D'oggi sulla telecamera, d'oggi sulla telecamera. Quasi amici, un format che conosciamo già dall'anno scorso. Quest'anno però ci sono tante novità. Sì, con molto piacere che facciamo un po' un consuntivo di quello che è successo nella passata stagione e una presentazione di quello che succederà nella prossima. Non è molto usuale che noi ospitiamo dei marchi, diciamolo chiaramente, nel nostro studio, ma in questo caso facciamo un'eccezione. Perché? Perché abbiamo introdotto con Garofalo, secondo me, un modo di comunicare profondamente diverso. Una nuova collaborazione tra le televisioni e i marchi che si avvicinano già al calcio. Garofalo è vicino a Napoli da anni e vicino in una maniera particolare. Perché l'interesse nostro e dello sponsor, in questo caso, non è tanto quello di lanciare solo dei messaggi commerciali. C'è anche la parte commerciale. Non vogliamo essere bugiardi oppure non vogliamo nascondere delle cose da questo punto di vista. Ma soprattutto c'è un profondo discorso etico che abbiamo voluto fare insieme di avvicinamento dei tifosi, senza retorica, parlando con delle facce giovani, parlando al vero nuovo pubblico del calcio che sono questi ragazzi, cercando di portare avanti un discorso che può sembrare molto semplice, ma che in realtà è profondamente rivoluzionario. Cioè, non si potrà essere amicissimi allo stadio perché un po' di sfottò, è sempre giusto, ma si può ospitare l'avversario in maniera carina, avvicinandosi allo stadio in maniera diversa da quella che si pensa generalmente, con amicizia o con quasi amicizia a meno. Io voglio ringraziare proprio Garofalo perché questa iniziativa è stata pensata insieme, è un progetto che è nato insieme e che diciamolo chiaramente, perché poi è anche bello dire quando le cose vanno bene, è andato benissimo. Vogliamo parlare un po', io parlo dal punto di vista nostro, dal punto di vista nostro ci sono stati dei grandi ascolti, ascolti che non hanno nulla a che vedere con un prodotto che sia commerciale, tutt'altro, perché questo non è un prodotto commerciale, di fatto è un format, voi non siete neanche presenti, se non all'inizio e alla fine. Pensate che una volta, questa la voglio raccontare, una volta c'era una cosa che si poteva fare con la pasta, dentro una puntata e non avete voluto. No, non ho fatto pizza e torta. Avete fatto pizza e torta. Adesso questo io lo apprezzo molto e secondo me è anche una forte indicazione di quello che abbiamo voluto fare insieme. insieme vogliamo trasmettere un messaggio che sia positivo e questa secondo me è la nuova frontiera per stare veramente vicino al mondo del calcio. Sei d'accordo? Sì, assolutamente. Innanzitutto, come dicevi, ci fa enormemente piacere il fatto che il pubblico ha apprezzato questo tipo di iniziative, l'abbiamo visto su numeri importanti, perché ogni puntata ha fatto circa tra Sky e Web un milione di spettatori, quindi numeri da programmi importanti. c'è stata un'animità nei commenti positivi, nel condividerlo, nel volerlo raccontare, nel voler raccontare ad altri questo tipo di iniziativa. Quindi, innanzitutto, questa adesione unanime che abbiamo avuto su questo progetto, che come hai detto tu, è un tentativo di voler portare avanti una parte sana del calcio, che è quella del tifo, quella dell'andare allo stadio per divertirsi, per tifare la squadra, non solamente per vedere il bel calcio, perché si fa per vedere la squadra, ma allo stesso tempo fatta senza retorica, senza voler fare degli inutili commenti retorici sulla storia, ma proprio facendolo in maniera divertente. Tra l'altro, questo secondo me, scusami, è una cosa importante, perché è un modo fattivo di entrare nelle cose. Cioè, per parlare delle cose belle del calcio, non è, secondo me, fondamentale omettere, omettere determinate cose, ma creare delle cose nuove, creare dei messaggi nuovi, perché lo spazio, lo stiamo dimostrando, per dare una visione più positiva delle cose, indubbiamente c'è in questo momento, e quindi è giusto inserirsi. Vuoi ricordare quali sono, diciamo, le novità che porteremo in questa stagione? Sì, allora, innanzitutto, la prima novità è che, diciamo, per poter raccontare una storia più significativa sui personaggi che frequenteranno e che racconteranno l'esperienza di quasi amici, i ragazzi neboetani sono stati scelti, sette ragazzi rimarranno gli stessi per tutte quante le... Un po' per fidelizzare, no? Assolutamente, ma anche perché per creare una storia più continua di questo racconto, mentre ovviamente i ragazzi ospiti saranno a rotazione. La seconda novità è che ci sarà un momento in cui andiamo a raccontare il tifo nella città ospite, quindi ci saranno due momenti di quasi amici, il primo racconta la città di partenza, per cui nel primo caso che è Napoli-Fiorentina, andremo a Firenze a raccontare la squadra. La terza novità è che ci impegneremo in una trasferta, perché giocare in casa è facile, ogni tanto bisogna provare a giocarla anche fuori casa. E quindi queste sono le tre grosse novità di questo programma e tutto quanto, diciamo, in questo passaggio è raccontare una storia sul tifo, sugli aneddoti, sulle passioni. La prima puntata racconterà gli striscioni che sono significativi, perché poi non ci rascondiamo appunto che il calcio è soprattutto tifo e passione. Noi stiamo vivendo, anche voi con il Parma, l'esperienza della Serie D, con Oltre al Napoli, sponsorizziamo la squadra della nostra città, che è Gragnano, e la passione che viviamo anche in Serie D è infinita. E questo significa che non è il calcio in sé, cioè si potrebbero vedere infinite partite in televisione, invece la passione per il proprio colore è quello là che fa vincere. E questo devo dire che è molto importante, noi siamo contenti, come sai, di essere vicini al Parma, proprio perché siamo convinti che non è importante solo parlare delle cose o polemizzare sulle cose, positive o negative, bisogna farle. Cioè, se uno non si mette a fare le cose, poi diventa tutto più difficile. Ricordiamo anche, perché è giusto che io da un punto di vista televisivo lo ricordi, che è una produzione alla quale investite, e anche proprio come produzione, perché è una produzione di alto livello questa, e quindi è veramente un modo diverso di concepire, diciamo, un rapporto di collaborazione inteso in senso etico tra un marchio e una televisione. Sono molto contento di aver iniziato questa strada con voi, che è una strada del tutto innovativa, siamo stati, possiamo dirlo, coraggiosi a farla, perché non c'erano dei precedenti, convinti, abbiamo fatto molto studio su come il format poteva andare avanti, avete dei collaboratori bravissimi, tra l'altro, nella produzione del format, e quindi siamo qui per dire che è stato proprio un grande successo di Letta. E' vero, riesco ad emozionarci in pochi minuti queste puntate di Quasi Amici. tra l'altro,